Bella faccia contro la testa gigante, non ho paura, allora io direi di tirarla a sinistra Bam, rete, gol, gol, mamma mia, tiriamo l'alta, bam, mamma mia che schiappa sto portiere raga Super calcio bonus, boom, l'abbiamo spaccato in due Ok raga, breve, vedremo il prossimo portiere che dovremo affrontare, siete pronti? Eccolo qua, pagliazzo Messi, 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 ancora Messi, ancora Messi, cosa sta facendo con quelle pantofole di soldi? Messi, 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 che pallenzi? Messi, Messi, Messi Ciao a tutti i Roblox giocatori, benvenuti su testa calcio Roblox Devo ancora scegliere, eh sì, ciao, ciao Devo ancora scegliere un fantastico nome per questo incredibile gioco di Roblox A tutti gli amanti del calcio, lasciate un incredibile mi piace perché questo è un gioco incredibile Dobbiamo cliccare innanzitutto per palleggiare, più palleggi facciamo ragazzi E come potete vedere più scarpette da bello prendiamo No, sono scarpe da calcio, sto scherzando Voi quanti palleggi riuscite a fare comunque sia? Fatemelo sapere, io sono una schiappa, eh Allora, regalo giornaliero, prendiamolo subito, pronto, rivendica, ok, pacchetto vittorie 2, ottimo lavoro Un uovo pronto, ce lo pigliamo, vai, acchiappiamolo per favore, una cosa bella, una cosa incredibile Vai, 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 maialino che ci dà 1.2, fantastico Raga, mamma mia, allora, per andare nel mondo 2 comunque devo guadagnare 10k di vittorie e Ronaldo sconfitto Se devo sconfiggere Cristiano Ronaldo, che cosa vuoi dire? Cioè, guardate che roba, combattimenti, punteggi per vincere, se queste sono Non so se avete presente, assomiglia un sacco a Head Soccer, il gioco con le teste giganti con i piedi Ok, quindi, per sfidare il primo devo raggiungere 660 scarpine Cioè, raga, assurdo, non ci posso credere Indossa, le scarpe, sì, le pantofole della nonna Mamma mia, che brutte, raga, ma non posso avere qualcosa di meglio? Scarpe, vediamo, attivo No, devo avere delle scarpe migliori, raga, non è giusto Allora, pronto, un altro regalo Mamma mia, ma quante robe, raga, vai, vai, richiesto, tutto, indossa Nuove scarpe Guardate le minue scarpe, raccobaleno, che belle Allora, raga, poi le palle si possono sbloccare E direi di sfidare la nostra prima testa gigante, vai Battaglia Eccoci qua Bella faccia contro la testa gigante Non ho paura, allora, io direi di tirarla a sinistra Bam Rete Gol Gol, mamma mia Tiriamo l'alta Bam Mamma mia, che schiappa sto portiere, raga Super calcio bonus Boom L'abbiamo spaccato in due Raga, l'ho demolito Continuiamo a palleggiare, va Che meglio Allora, in negozio abbiamo qualcos'altro di gratis Ti prego, qualcosa di gratis per me Scusa, mi dici gratuito e non c'è nulla di gratuito Allora, direi di prenderci un pet Vai, ti prego qualcosa di buono in quest'uovo Uh, un uccellino Ok, dov'è? Non è male, eh Ok, quante scarpette si dà, raga? Tantissime Raga, tantissime A breve possiamo sfidare addirittura il nuovo portiere testa, eh Allora, abbiamo anche dei giri gratuiti In sto gioco ti regalano tantissime cose Vai, vai, vai 37 va benissimo 37 Fermati No, vabbè, 37, raga, me ne ha dati C'è follia E posso fare altri tre giri Ma di cosa stiamo parlando? Sto gioco del calcio è assurdo Devo diventare 37 ancora Devo diventare superforte E fare tantissimi altri gol Vediamo Vediamo Top, raga No, vabbè Posso sfidare la nonna? Ma la nonna gioca a calcio Ma da quanto? Da quanto? Ma no, ho sbagliato, raga Ho rifatto contro lui Vabbè, dopo tiro contro Ah, questi qui sono bloccati Ok, di là Super goal Cioè, guardate Addirittura la vita Raga, voglio giocare Ah, parata! Maledetto Ma beccati questo Raga, voglio giocare contro la nonna Super tiro master Boom Fa troppo ridere, raga Dai, è assurdo Allora, la nonna La nonna? Ma senza lui? Posso giocare contro la nonna? O devi giocare tu? Scusa Allora, abbiamo delle altre scarpe Blu, top Combatti contro la nonna Vai, poverina la nonna Scarpe equipaggiate Vai, nonna Sono pronto Ok, sinistra Eh, la nonna è scarsa, raga Eh, va mia cucina Rona crostata di mele La parata Non ci posso credere Ok, a destra, nonna Rete Nonna, mi dispiace K.O. alla nonna Ti devo distruggere, nonna Oh, mio Dio Povera nonna, raga Con le pantofole Con i conigli Yes Ce l'abbiamo fatta, raga Continuiamo comunque sia A fare tantissimi palleggi Mamma mia Ronaldo, raga Dobbiamo sfidare Mondo 2 10.000 Dobbiamo fare 10k Ma come faccio a farne così tanti Scarpe velocità bonus 30k Attivo Ah, perché posso shoparle Ce le ho già quelle super Ok, più 24 mi dà Allora, con 139 Io mi prenderei un altro pet, raga Secondo me i pet aiutano Uh, buono 1.9 Il tigrotto Ma quanti ne posso tenere? Ok, tre, raga Ok, il maiale è il più scarso Giustamente, eh Mamma mia, guardate Cioè, guardate che roba, raga Mamma mia Più 171 Mi dà di scarpe A breve posso sfidare Chi è il cowboy? Quello lì? Chi sei? Fatti vedere Nuove scarpe E ce le indossiamo Mamma mia Se sono brutte, raga Ste scarpe Ma cosa sono? Sono fatte di polistirolo Ma dai Attenzione Messi, Messi, Messi Messi, Messi Bella faccia, Messi Allora, qua possiamo trasformare un pet gold Ovviamente ne dobbiamo avere 4 E noi non ne abbiamo manco 2 Eccolo l'avversario Cowboy Difficile Proviamoci Ci siamo, raga Contro il cowboy Perché i miei pet sono lì? Ok, io gliela tiro centrale, raga Ah, lo sapevo che è nabbo Ok, sinistra Mamma mia, se è scarso Fortuna che era difficile, eh Destra? Mamma mia, raga Ancora destra? Ancora destra? Mamma mia, ma sei scarso Ma la nonna almeno ne ha parata una Ok, ne ha parata una, raga Ok, centrale Ok, top, raga Un altro gol e ho vinto No, l'ha parata sto maledetto No, ti prego No, yes L'abbiamo sconfitto, raga Più 20 trofei Super calcio bonus Boom Yes Abbiamo fatto un sacco di trofei Mi dispiace, cowboy Riproviamo la prossima volta, eh Allora, visualizza un oggetto Prendiamo l'uovo gratuito, raga Per 3 Top Buonissimo quello per 3 Equipaggio al meglio No, laschi Bellissimo, raga Ci dà una marea di scarpe in più Ma poi chi è quel Goku? 19.8 milioni Se vabbè contro la testa di Goku, raga Devo combattere Se io boh Allora, possiamo aprire queste comete? Ho abbastanza soldi? Yes, raga Vediamo Uh, più 2 Ok Altri giri mi dà, eh Ti prego Ti prego, yes Però ci sono delle palle bellissime 220k Mamma mia 222, raga Ancora 222k Abbiamo un altro giro Comete incendi aria No, eh No, no Va bene, va bene, va bene Raga, sono ricco quindi adesso Ma quanti ne ho? C'è quanti ne ho adesso? 800 Sì, vabbè Sì, ma quello è un milione e cinque, raga Tantissimo Se devo fare un sacco di palleggi in più Allora, scarpe rosse Belle Che mi danno ancora più punteggio, raga C'è, guardate tutti come palleggiano, raga Stanno tutti palleggiando Cercando di sconfiggere ste teste Allora abbiamo Regalo Uh, il noob c'era Ma non l'avevo visto Raga, richiede ricompensa Vediamo i pet Equipaggio al meglio La testa, noob Sì, top Raga, io comunque prendo le scarpe automatiche Non ho più voglia Non ho più voglia di cliccarmi, dispiace Ok, scarpe automatiche Vai, palleggia Ho detto palleggi Scarpe automatiche? Scarpe automatiche Oh, ma l'ho scioppato Scarpe automatiche Ma dov'è? Allora abbiamo un uovo Per 2.6 Tanta roba Sì, ma le mie scarpe automatiche, raga Sta roba non è giusta, eh Oh, le mie scarpe automatiche Allora, mi hanno regalato dei pet Che non mi servono a nulla Però grazie Sì, ma raga Le scarpe automatiche Dai, ma io le ho scioppato Oh, c'è Non mi dire che mi cambia le scarpe da solo Quando arriva un milione Se quando arriva un milione Me le mette Se me le mette così in automatico Mi arrabbio tantissimo Lotta automatica? No Questo Oh, ma se l'ho fatta Treno automatico Ma parla italiano Roblox Ma che cosa? C'è tren automatico C'è io Boh, raga Non ho parole Attiva Scarpe nuove Guardate Dove sono le scarpe? Oh, aspetta Voglio vedere le scarpette nuove Dove sono? Oh, mettimi le scarpette nuove Equipaggia Blu Guardate che belle A breve possiamo sfidare sto coso Ma che cos'è? C'è che testa è quella? Ok, raga A breve Vedremo il prossimo portiere Che dovremo affrontare Siete pronti? Siete pronti? 3 2 Dai, vai più veloce però Vai più veloce 3 2 1 Sì, vabbè Ancora devo fare 40 Dai, muoviti 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 Ci siamo Eccolo qua Pagliaccio Non ci credo Avrei detto tutto Tranne che un pagliaccio esperto Combatti Oh mio Dio È Joker, raga È Joker che è super arrabbiato E vuole giocare a calcio Contro di me Boom Goal, Joker Ti distruggo Destra Mamma mia Di nuovo a sinistra Di nuovo a sinistra Bam La parata quel maledetto Ok, pallonetto Pallonetto Ok, centralo un'altra volta, raga Che non se l'aspetta Invece sì, maledetto La parata Ok, è tosta Goal Mamma mia, raga Attenzione Boom Yes Uovo pronto Sì, adesso Ma scusa, stavo combattendo Stavo combattendo Non mi dire che Joker si è salvato No, raga Joker si è salvato What? Ma che cosa? Ma io stavo combattendo Se stavo combattendo Il gioco ha deciso Di fare una pausa C'è boh Intervallo Cos'è? Ok, goal Ti straccio Ti straccio, Joker Ok, destra Mamma mia La parata, raga Parte il tiro Di bella faccia Oh mio Dio Non è giusto Non è giusto Prima stavo vincendo Non è giusto Prima stavo vincendo Maledetto gioco Che gioco Maledetto Raga, avete visto che roba? Ok, goal Messi, messi, messi Bella faccia, messi Bella faccia Attenzione, goal E a destra Vuole andare Rete Ok Sinistra, sinistra Dai Non ci posso credere No, no, no Questa è ladrata No, questa è rubata No, no, no Torniamo su Torniamo su Su, su Mi devo alzare Ce la devo fare Yes, rianimato Mamma mia Che ingiustizia Eh, sbabam Se, vabbè, dai Io non ho parole, raga Se prima stavavo vincendo Ma beccati questo Nella tua testona gigante Joker Se è assurdo, raga E ancora devo fare Se, vabbè Devo fare 9.000 Per andare nell'altro mondo E sconfiggere Ronaldo Raga, secondo me Questo sicuramente sarà Ronaldo Eh, non voglio scioppare Basta Se, 17 milioni, raga Per sconfiggere Ronaldo Ci metterò una vita Quindi forse Bisogna fare la tripla Se, bisogna scioppare Dai, ciao, eh Io prendo questo Da 700 Te lo dico Già lo sai Vediamo Per 2 Per 2 Vediamo Mettiamo quella al per 2 Equipaggio al meglio Cioè, raga, dai È stato inutile Attenzione Oggetto gratuito Prendiamo l'uovo Ti prego 2.4 Però mi sa che non basta No, raga Ma ormai sono fortissimi i miei Dove posso potenziarli? Allora, qua 8 animali domestici Quindi Vediamo Quelli che non uso Ovviamente, eh Ok, questo No, devo averne Ma, ah, l'indice è questo Ah, ne ho 8 totali Questo qui è l'indice E qua? Posso mettere quelli che voglio? Ok, proviamo questo 20% No, ha fallito Poi Proviamo questo Fallito Proviamo quest'altro E beh, fallito Giustamente Raga, guardate che scarpe verdi Bellissime che ho Più 90 Sono le ultime queste Io voglio la palla Infocata Come faccio? Cioè, non ho più comete Abbiamo un altro regalo, raga Moltiplicatore di tempo E ninja Per 7, raga Raga, per 7 Oh mio Dio Equipaggio al meglio Il cane poliziotto No, non è il cane poliziotto Ma è bellissimo, raga Oh, cos'è? Cometa Che è? Apri Vai Qualcosa di buono Vai, vai Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego Ok, 2-2-2 Va bene Meglio che nulla Raga, combatto di nuovo contro il pagliaccio Perché ho bisogno Comunque sia di trofei 100 Sì, speravo che me ne dava un po' di più, eh Comunque sia E l'ha pure parata sto maledetto Ma basta pararle Ti distruggo Ok, 400 trofei Più l'ultimo Vediamo Boom 400 più forse 500 totali, eh Sì, ma raga Le scarpe le ho tutte al massimo I pet Cioè, qui sono gli ultimi Cioè, come faccio a sconfiggere Ronaldo Ad arrivare a 17 milioni Che faccio 2000 al secondo Cioè, dai Sto gioco Eh, lo fa apposta sto gioco, eh Io direi di fare così Prendiamo una marea di uova, raga Speriamo di averne 4 E ne faccio una gold Allora, vediamo un pochettino Uniamo questi Vai, 60% Ok, è andato Poi, un altro Proviamo questo 40, non è andato Tanto per cambiare I topolini Non è andato Tanto per cambiare Allora, vediamo quello dorato Dov'è quello dorato? Ah, questo? È andato Ok, non male Proviamo a prendere l'uovo da 700 Per 2, raga Per 2 Eh, vabbè Proviamo ad unirli, oh Che magari viene il pet finale Vediamo un pochettino Eh, beh, ovviamente no, eh Ragazzi, io direi che devo continuare a palleggiare Cioè, raga Devo arrivare a 17 milioni Sono nemmeno a 5.000 Ci sto mettendo una vita Se il video vi è piaciuto Fatemelo sapere Che facciamo un altro episodio Perché ci sono tantissimi A parte che bisogna sconfiggere Goku portiere Ma ci sono tantissimi portali Cioè, assurdo, eh Fatemi sapere se volete un altro video, quindi Perché qua c'è da sciopare Da me è tutto E mi raccomando Palleggiate molto! Allora, allora, allora Allora, allora, allora Allora, 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 allora Grazie a tutti.